Dare bignardi, non vi lascerò arfani. Tornando al misterioso matrimonio di cui non restavano tracce, per mese abbiamo pensato che quella nonna, mai conosciuta, tanto bella quanto sfortunata, abbesse dovuto tollerare una situazione di convivenza insolita per quegli anni, che avrebbe potuto anche corrispondere all'ideale libertario del nonno. Non certo ai suoi. Lo stesso giorno in cui abbiamo scoperto la storia dello scheletro in cantina, Donatella e io siamo andate in comune a Castello. Ci aspettavamo che i municipi ci avrebbero aiutato, perché negli uffici dell'anagrafe in cui eravamo state fino a quel momento, a Cingoli, San Gemini e Castel Guelfo, le impiegate ci avevano messo a disposizione con entusiasmo libri meravigliosi, vergati con inchiostro marrone da ornate grafie ottocentesche. Ma proprio nel nostro paese dell'anima nessuno ci considerò. Le impiegate, che di Castellano avevano ben poco, ci dissero di fare una richiesta scritta e di ritornare. Stavamo per andarcene col culo dritto, quando una signora più anziana ci riconnove come le figlie di Vico Bignardi, quel signore tanto gentile amico di suo padre, e ci disse che molti documenti erano stati temporaneamente spostati in uno stanzone a causa della ristrutturazione del municipio in cui ci portò, come se fossimo dei cospiratori. Se i nonni si erano sposati, poteva esserci qualcosa. Avevamo perso quasi ogni speranza quando il documento salto fuori. Era lì davanti ai nostri occhi. Olivero Bianchi fu pacifico, ragioniere, residente a Bologna. Si unisce in matrimonio con la delle foresti Foucaire. Donna di casa, residente a Castel San Pietro dell'Emilia in via Ramazzotti. 21. Ed ecco la rivelazione. Si sposarono civilmente a Bologna. Il 26 giugno del 23. La mamma nacque il primo luglio del 23. Ci siamo guardate all'ibite, entrambe immaginando la nonna con il caldo dell'estate emiliane, con un pancione di nove mesi, andare a Bologna per sposarsi, per poi praticamente tornare di corsa a Castel e partorire. Con volata a nozze in extremis, niente chiesa, niente viaggio di nozze, niente cavalli bianchi come era stato per Maria Conti, la prima amore del nonno che arrivò in chiesa, in carrozza, con un meraviglioso turbante di pelliccia. Povera nonna Dele. Povera nonna Dele.